forma canonica, una quadrica. Quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una superficie logica, di grado 2 in tre variabili, x, y, z. Ok, l'equazione della quadrica è data questa, x4-2xy più 2y quadro più 2xyz più z4 meno 2y più 2 uguale 0. Giusto per graficarla un attimo, esce questa cosetta qua. Ok, quindi cosa ci sembra? Sembra un po' un cono strano ma detto meglio, sembra un po' che abbia fatto ruotare una parabola su un asse e abbia ottenuto questa cosetta. Però non è centrata, è appuntita, è storta, è traslata. Cerchiamo di metterla su un asse dritto e normalizzarla. Quindi dall'equazione noi passiamo alla matrice dei coefficienti. Cosa dobbiamo fare per farlo? Immaginiamo di avere proprio una tabella con x, y, z e termine noto sulle righe, sulle colonne idem. In questo modo il primo termine abbiamo il coefficiente di x quadro. Il secondo qua, in a2,2 abbiamo il coefficiente di y quadro e il coefficiente di z quadro è a3. Poi il termine noto è a4,4. Se guardate tutti gli altri termini invece sono i coefficienti, per esempio questo qua è sulla riga delle x ma la parola delle y, quindi è questo, sono divisi per 2. Perché? Perché noi possiamo passare dalla matrice all'equazione usando le forme quadratiche, quindi prendendo un vettore x e mandandolo in x, in trasposto di x per b per x, con x che è fatto dalla forma x, y, 1, poi per b per x, y, 1. Questo perché la forma quadratica di per sé è data dalla matrice 3x3 o dei coefficienti di grado 2, che sono x quadro, y quadro, z quadro e i termini misti, che comunque è a grado 2. Per ottenere i termini noti dobbiamo aggiungere qualcosa che non sia una variabile, quindi ci mettiamo 1 nel vettore e finalmente questo endomorfismo, poi abbiamo aggiunto 1, quindi ha i vettori un po' particolarini, ci permette di scrivere una forma quadratica in modo più comodo. Bene, allora andiamo a studiare, il terminante di b è meno 1 e il terminante di a è nullo, questo lo vediamo perché ha due righe realmente dipendenti, quindi come si fa? Si va nella classificazione delle quadriche e si guarda, il paraboloide ellittico ha i termini di b un'è meno 1 e 0 e i termini di a è uguale 0. Ok, allora è un paraboloide ellittico, infatti ci aspettavamo che si fosse qualcosa legato alla parabola e l'abbiamo trovato. Adesso, come si fa a studiare? Bisogna studiare gli autovalori della forma quadratica, quindi andiamo a studiare poi il nome caratteristico di a, che è dato da determinante di lambda volta, la matrice di identità, meno a e vediamo che è fatto in questo modo, è lambda per lambda meno 3 per lambda meno 1, quindi abbiamo 3 autovalori, il primo è 0, lo annulla, il secondo 3 e poi abbiamo 1. L'ordine con cui il numeriamo non è importante perché semplicemente andremo a sdraiare la quadrica su un'asse di spettacolo alto, ma comunque non è importante. E andiamo a studiare gli autospazi perché dobbiamo vedere quali sono i vettori direttori perché se noi sappiamo che la matrice A, dato che è simmetrica, è diagonalizzabile tramite una matrice ortogonale speciale. Quindi come facciamo ad ottenere una matrice ortogonale? Dove essere tre vettori che messi in colonna formano una base ortonormale di R alla 3 e come li prendiamo? Sono la base degli autospazi normalizzata oppure ortonormalizzata come nel processo di Granschmidt, però in questo caso vediamo. V0, noi risolviamo il sistema lineare trovando 0 volte l'identità meno A, quindi proprio equivalente a studiare il kernel di A e vediamo che è generato da questo vettore qua. Chiamerò V1, no è brutto chiamerò V0. Idem facendo i calcolini, tre volte l'identità meno A, risolviamo il sistema lineare e vediamo che è generato da questo secondo vettore e questo è il terzo. Notiamo che la norma del primo è la radice quadrata di 1 al quadrato più 1 al quadrato più meno 1 al quadrato, quindi è la radice quadrata di 3. La norma del secondo è la radice di meno 1 al quadrato più 2 al quadrato più 1, quindi è 1 più 4 più 1, che fa la radice di 6 e l'ultimo ha la norma radice di 2. Dato che semplicemente noi sappiamo che gli autospazi devono essere insomma dirette, quindi la loro intersezione è 0 e sono ortogonali tra di loro, se io provo a fare il prodotto scalare tra questi vettori di sicuro otterrò sempre 0. Un attimino proviamoci. Abbiamo questo per questo, facciamo, abbiamo meno 1 più 2 meno 1, quindi fa 0 giustamente, e poi abbiamo per esempio questo per questo, abbiamo meno 1 più questo per questo fa 0 più 1, quindi meno 1 più 1 fa 0 sono ortogonali, gli ultimi due vediamo che questo per questo fa 1, questo per questo fa 0, questo per questo fa meno 1, quindi la teoria funziona, però dobbiamo normalizzarli, quindi dobbiamo prendere i vettori e semplicemente dividerli per la norma, questo perché noi sappiamo che un vettore normato è un vettore diviso la sua norma, perché la norma di un vettore, anche se ha un coefficiente davanti, lo vuoi tirare fuori, quindi se la norma è radice di 3, il coefficiente lo posso tirare fuori e ottengo che la norma di un vettore normato è la radice di 3 diviso la sua, diviso la radice di 3, quindi andiamo a metterli in colonna, la matrice P ortogonale è data da questi 3 vettori in colonna e vi faccio notare che se non li avessimo normalizzati il determinante di P sarebbe stato 6, ma di nuovo noi per linearità possiamo tirarci fuori da ogni colonna o da ogni riga un coefficiente che sia motivo di tutti i numeri, quindi se noi adesso tirassimo fuori radice di 3, radice di 6, radice di 2, avremmo che più ortogonale è 1 diviso il prodotto di questi 3 coefficienti, che vediamo radice di 6 per radice di 6, quindi è un sesto per la matrice non normalizzata, che comunque è ortogonale speciale dato che la determinante è uguale a 1. In alcuni casi il determinante viene meno 1, quindi non ci stiamo trovando una matrice ortogonale speciale, ma sono soltanto una matrice ortogonale. Per evitare di fare simmetrie, sono molto più comode le rotazioni, come si potrebbe fare? Basta cambiare di segno vettore, perché da segno determinante sappiamo che cambiando il segno a una riga cambia anche il segno al determinante, oppure inverti due colonne. Ok, quindi cosa stiamo facendo? Abbiamo trovato quali sono i vettori su cui ruotare e non solo, sappiamo come sarà fatta la matrice già girata, diciamo, perché avrà suoi diagonali di 8 valori e 0 dall'altrove. Qua se potete vedere il codice di LaTeX c'è niente di eccitante. Ok, quindi quello che stiamo facendo in realtà sappiamo già cosa otterremo, perché otterremo una matrice A che ha gli 8 valori sulle diagonali, quindi che sono 0, 1 e 3, avremo qua 0, qua 1 e qua 3 e altrove tutti i 0. Ma il problema è che se noi lo calcoliamo per B, le ultime colonne e l'ultima riga non sappiamo come cambiano, quindi in realtà dobbiamo esplicitare quello che stiamo facendo in modo implicito. Quindi noi stiamo facendo un cambio di coordinate. Abbiamo preso le nostre vecchie coordinate, x' e lo abbiamo posto uguale a Px. Quindi le nostre vecchie coordinate, facendo questo calcolo qua, che comunque è facile, sviluppiamo e otteniamo questo sistema. Questo sistema deve essere verificato, quindi io posso andare a prendere queste equazioni qua e sostituirle nella forma della quadrica. Ok, qua piccolo problema di nomenclatura potreste dirmi. Avreste dovuto scrivere x' quadro meno 2 x' y' più 2 y' quadro eccetera. Però noi siamo intelligenti e ci capiamo bene. Ok, non è un calcolo gioioso, non è decisamente un calcolo felice perché abbiamo il quadrato di un trinomio con delle frazioni, con dei radicali e un doppio prodotto di, di nuovo, un trinomio e un binomio. Non è felice, ma il fatto è che non dobbiamo farlo, dobbiamo solo esplicitare la parte che ci manca. E cos'è che ci manca? I termini lineari, quindi il termine coefficiente di x, il coefficiente di y, il coefficiente di z e il termine è noto. Perché adesso sappiamo come verrà. Verrà 0 volte x quadro più, se ho messo 1 là, sarà 1 volta y quadro più 3 volte z quadro. E tutti i termini misti x, y, y, z, x, z, sono tutti 0. Perché abbiamo diagonalizzato la matrice. Quindi in realtà il calcolo si riduce molto facilmente perché di nuovo possiamo semplicemente tralasciare queste cose qua. Allora, sostituendo, saltando un bel po' di passaggi in realtà possiamo arrivare a qualcosa un pochettino di più. Perché qua, per esempio, io vi ho già raccolto un quadrato, ho aggiunto un termine per ottenere un quadrato fatto apposta. Però, giusto per farvi vedere l'idea che abbiamo fatto, è questo. Abbiamo preso questo schifo, l'abbiamo ruotato, l'abbiamo normalizzato, mi viene incendito sull'asse e, vedi, c'è ancora un po' di spazio, no? Perché è solo sull'asse z che non è avvicinato. E comunque potrebbe essere ancora più normalizzato. Senza stare a fare i calcoli, però, vi spiego come si fa. Abbiamo che è traslato di un vettore che sulle z vale 0, sulle y vale 0, ma sulle x vale 0, sulle y vale 0, ma sulle z è shiftato di questo termine qua, 2 terzi radici di 5. Quindi, se io chiamasse una nuova variabile z' che ho già usato, quindi chiamerò z' e la definisse come z almeno 2 terzi radici di 5, allora, perfetto, otterrei proprio, andiamo a scriverlo, invece che tutta questa roba qua, no? Avrei semplicemente meno z al quadrato. Voilà. Ma non solo, perché qua, di nuovo, avrei il problema che il coefficiente qua non è 1, ma non è un problema, perché posso fare una omotetia, quindi posso chiamare una nuova variabile x' pari a 2, solo dicevi tra x e quindi otterrei ovviamente, qua si semplifica, otterrei soltanto x. Ah, scusami, l'avevo messo più, forse era meno. Oddio. Oddio. Meno. Ok. 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 Vabbè, un segno, la 6 simmetria cambia. Poi, adesso, avrei più questo 26 quindicinquesimi, che, di nuovo, non mi piace, però tanto posso portarlo di là. E posso moltiplicare tutto per 15, quindi avrei 15y quadro, meno 15z, più, ah, scusatemi, c'è un 3z, ma di nuovo posso fare un omotetia e toglierlo. E, di nuovo, la contrazione sui assi, quindi ci posso semplificarmela. Sparito. Il bello della live. Ok. Sta laggando, vabbè. Comunque, posso comunque qua, semplificare e ottenere la forma canonica, che è y quadro più z quadro uguale x. Quindi, allora, faccio un attimo, x uguale y al quadrato più z al quadrato. Voilà. E otteniamo lui. qui. Adesso, una roba, invece, molto più manuale. Proviamo a mettere in forma canonica questa quadrica. y quadro meno 2xy più 4xz meno 2yz più 3x meno y meno 1. Incominciamo a scrivere la matrice associata. Abbiamo il primo coefficiente di x quadro, 0, poi il coefficiente di xy diviso per 2, il coefficiente di xz diviso per 2 e il coefficiente di x diviso per 2. Ok. Fatemela scrivere senza parlare, se no non sbaglio. Ah, la parte bella è che ovviamente è simmetrica, quindi questi numeri qua li so già, questo numero qua lo so già 0, 0, 0, 0 e 1. Ok. Questa è la nostra matrice B. Tale che si affaccia x, y, z, 1. Per B, per di nuovo, x, y, z e 1 ottengo uguale 0, ottengo proprio l'equazione qua. A, non fate mai scrivere, però posso selezionare la cosa. Ti prego, fammi muovere. Cazzo. Ok. Voilà. A, ossia la forma quadratica della quadrica, è questa. Ok. Proviamo a fare il determinante di B. Vi risparmi i calcoli, è un quarto, che è minore che 0, e il determinante di A invece è 0. Lo si vede, sono due etiche realmente dipendenti. Quindi andiamo a guardare qua. Abbiamo questo caso qua. Parapolite perbolico, ha il determinante di B positivo, un quarto, e il determinante di A nullo. Quindi è un paraboloide iperbolico. Ok. Come si fa a procedere? Dobbiamo prendere il poenomio caratteristico di A, che è uguale a determinante di lambda volte l'identità meno A. E di nuovo vi semplifico la vita, che vale, ops, meno lambda per lambda più 2 per lambda meno 3. Quindi abbiamo tre autovalori. lambda uguale a 0. Lambda uguale a meno 2. Lambda uguale a 3. Adesso andiamo a studiare i corrispettivi autospazi. Quindi andiamo... Lasciami un po' di spazio, per favore. Ok. Andiamo a studiare il primo autospazio v di 0, che equivale a 0 volte l'identità meno A, ossia è proprio il kernel di A. E vi risparmi i calcoli. Questo è generato dal vettore 1 meno 1, 1. Ok. Ve lo scrivo già in forma normale. Quindi da qua noi lo normalizziamo e scrivo anche v0 uguale a 1 divisa la sua norma, che è radice di 3, per proprio il nostro lettore v0. 1 meno 1, 1. Poi andiamo a studiare v di... È una fotoconfusione. Ok. Questa è la v di 3. Ora andiamo a studiare v di 0 e vediamo che è lo spazio generato dal vettore 1, 2, 1. Quindi andiamo a scriverci il vettore normato, che è 1 divisa la sua norma, che è una varia radice di 6, per... Non lo scrivo, scriverò 0. E infine andiamo a scriverci l'autospazio relativo a meno 2. E vediamo che... ...è generato da questo vettore. Lo normiamo, quindi scrivo w di meno 2, uguale 1 divisa la dice di 2, per questo vettore qua. Oh, finalmente possiamo andare a scriverci... E lascio un po' di spazio. Ok. Andiamo a scriverci P, la matrice ortogonale di rotazione nello spazio, che deve essere w di 0, w di meno 2 e w di 3. Notiamo che il determinante di P è uguale a 1, quindi perfetto, non dobbiamo fare cose. E adesso andiamo a esplicitare il sistema di cambiamento di coordinanza che stiamo facendo, no? Noi stiamo facendo così. Sì, quindi cosa avremo? Avremo che x' è uguale a 1 su radice di 3x più 1 su radice di 2y più 1 su radice di 6z. a sistema. Sistema deve verificare tutte e 3, e quindi se noi andassimo a sostituire qua dentro, dovrebbe comunque verificata l'equazione della quadrica. Quindi dobbiamo proprio sostituire. Qua, noto che posso fare una piccola modifica. Faccio così, per essere pignoli. E andando a sostituire cosa troviamo? Saltiamoci dei bei passaggioni. Otteniamo 3x quadro. Meno 2y quadro più 0z quadro. Questo lo sapevamo già. Perché 3 è autovalore. Meno 2 è autovalore e anche 0 è autovalore. Quindi, a patto di comunque scegliere l'ordine tra meno 2 e 0 o meno 2 tra 0, 0 o meno 2 tra 0, sappiamo che i coefficienti dei termini elevati alla seconda devono essere questi. Ma non solo, sappiamo che i coefficienti dei termini misti devono essere 0. Quindi ci rimane soltanto da calcolare questo. 4 sulla radice di 3x più 3 sulla radice di 2y più 1 sulla radice di 6z più 1 uguale 0. Adesso dobbiamo comunque traslare un attimo la nostra quadrica per farvi capire cosa stiamo facendo. Noi siamo passati da queste equazioni qua, y quadro meno 2xy. più 4xz meno 2yz più 3x meno y più 1 uguale 0. What? L'ho scritta male. L'ho scritta evidentemente male. Allora, y quadro meno 2xy. Forse qua c'è uno spazio che non gli piace? È peggiorata la soluzione. Più 4xz meno 2yz. Ok. Più 3x meno y più 1 uguale 0. Va bene. Che schifio, mi sta laggando il compito da morire. Madonna mia. Che brutto. Magari se mi avvicino un po' invece. Lagga ancora di più. Ok. Va bene, va bene. Questo oggetto qua. Lo tolgo che mi sta incasinando. E siamo passati a questo oggetto qua. 3 e x quadro. Meno 2y quadro. Poi c'era un diviso. 4. No, più 4. Diviso. Oddio, me la prenderà? Sììì. radice di 3. Questa non la coppia. 4 su radice di 3 x. Più 3 su radice di 2. y più 1 diviso radice di 6 z. Più 1 uguale 0. E' già qualcosa di osservabile, diciamo. Non è la cosa più bella che ci aspettiamo. Però almeno vediamo che è un parabolo di perbolico. Che è un punto di sella qua. Uh, dai, puoi farcela. Eccolo il punto di sella. Bene, adesso come si può procedere? Si può procedere completando i quadrati. Perché abbiamo questo e questo. E lo possiamo scrivere come raccomandolo 3. Abbiamo x più 2 diviso 2 su 3 radice di 3 al quadrato. Ma così avremmo aggiunto un termine dato dal quadrato di questo per 3. Che quindi dovremmo andare a sottrarre dopo. Ma lo faccio alla fine. Poi abbiamo i termini in y. Quindi fatemi raccogliere quel meno 2. E abbiamo meno 2 y meno... Di nuovo qua. Dobbiamo ottenere un quadrato. E poi abbiamo i termini in z. Più 1 su radice di 6. Z. Che è l'unico. E adesso sommando tutti i termini noti che ci escono. Ci facciamo uscire un bellissimo. Più 161 su 144 esimi. Adesso però possiamo fare nuovo un cambio di coordinate. Cioè scritto bene sarebbe x' uguale a x più 2 su 3 radice di 3. y' uguale, avete capito, a y meno il suo vettore di traslazione. Z' uguale a z meno. Adesso cosa facciamo qua? Per semplificare prendiamo il termine noto e lo accorpiamo a z. Quindi qua scriviamo x' uguale a questi 161 quarantaquattresimi per radice di 6 al sistema. Quindi andando a sostituire otteniamo una cosa un pochettino più semplice. Ossia 3x quadro meno 2 y più 1 quadro più 1 su radice di 6 z uguale a 0. Adesso possiamo fare o modetti e traslazioni, però non mi fate scrivere il sistema. Ovviamente sulle x contraiamo di radice di 3, sulle y contraiamo di radice di 2 e sulle z invece allarghiamo di radice di 6. Quindi può ottenere la nostra equazione canonica z quadro meno y quadro più z uguale a 0. Quindi andiamo a vedere cos'è questa cosa. No, 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 no. Abbiamo x al quadrato più y, non ce no, più z. Questo deve fare y al quadrato. Voilà. Come vedete è sempre meglio. È sempre un casino. Però mi lagga anche di meno. Vede che c'è un punto in cui c'è una serie di cavallo e poi va su. C'è due parabole che si intescano. È la forma di una Pringles molto stilacchiata. Va bene. E questo è tutto. Lo schema potrebbe essere utile. Se avete guardato.